dunque avete notato che sono qui da quasi quanto è quasi un'ora e non ho ancora nominato la parola covid avete visto e neanche novax e neanche green pass o virologi perché la pandemia è una cosa che si sta allontanando è come il ddl zan se ne è parlato tanto per un po e oggi quasi nessuno si ricorda più cosa cosa fosse cos'è tra l'altro scusate se non ricordo male credo che fosse il disegno di legge che doveva combattere l'omotransfobia giusto anche fedez in quei giorni si era schierato invece adesso fedez fa lol comici che non devono ridere è normale dai non puoi tutta la vita parlare ddl zan covid novax no anche se devo dire c'è ancora un po di polemica sull'obbligo vaccinale ma sono gli ultimi sprazzi questo è un tweet dell'onorevole lucaselli di fratelli d'italia che dice oltre 500 milioni di italiani che non potranno andare al lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo stato ha deciso che per farlo serve un pass questa non è democrazia non è nemmeno l'italia però oltre l'onorevole lucaselli 500 milioni di italiani 500 milioni ma magari è un refuso sai ti è scappato uno zero in più nella foga ma se fai un tweet rileggilo no anche perché 500 milioni è più del triplo degli abitanti della russia a questo punto invadiamoli noi capisci tra l'altro sei di fratelli d'italia avete il 20 per cento su 500 milioni sareste un partito da 100 milioni di persone potreste rifare il terzo reich e nel mondo muti sai 500 milioni vabbè comunque a parte questi misteriosi effetti da long covid ne stiamo uscendo hanno anche tolto l'obbligo di mascherina all'aperto ma non dappertutto però ci sono ancora 800 milioni di campani che dovranno continuare a mettersi la 850 scusato 350 milioni che dovranno ancora mettersi la covid campagna De Luca mascherina all'aperto obbligo ancora valido De Luca non molla lui vuole la lotta la lotta quando scende la carica virale gli si impenna la carica virile e comunque anche se il covid finisce qualcuno contro cui scagliarsi lui lo trova sempre il ministero boccia il piano paesaggio De Luca contro la dirigente cipollone ci faccio il brodino al ministero della cultura una dirigente di nome cipollone gli ha bloccato il piano paesaggio della campagna e lui non ha trovato di meglio che fare ironia sul cognome ormai è arrivato al bullismo da seconda media vediamocelo guardiamocelo